Mi vedete seduto una volta tanto, anche perché sto osservando alcuni cittadini che stanno lavorando in una piazzetta e intorno alla piazzetta in delle aiuole che sono qui in questo quartiere. Ci troviamo, Piazzetta San Rocco, è una piazzetta che non ha nome, ragione per cui già questo ci induce a chiamare in causa l'amministrazione e chi per esso a dare un nome a questa piazzetta anonima che è frequentata da cittadini che abitano in questo quartiere, San Rocco. Perché siamo venuti qua? Perché i cittadini, come al solito, ci chiamano per farci sapere dei problemi che vivono quotidianamente. I problemi qui erano le erbacce. Quante ne volete di erbacce? Crescevano a dismisura. Adesso cosa è successo? Che alcuni cittadini di buona volontà, vero? Buona volontà. Eh sì, buonissima volontà direi. Si sono organizzati, si sono preoccupati di fornirsi di attrezzi per il taglio delle erbe e hanno lavorato tutta la mattinata per ripulire la piazzetta, tagliare le erbe, dare un'immagine adeguata a questa piazzetta che è lo spazio dove essi vivono insieme ai loro figli. Niente di più e niente di meno. Questo è un quartiere dove ci sono circa 200 appartamenti. Si affacciano 8 parchi su questa piazzetta. È un quartiere che non ha un nome perché l'unico civico che contraddistingue tutto il complesso che è enorme è via San Rocco 8, il che porta anche problemi di ricezione della posta. Capita all'ordine del giorno la multa che non viene notificata, l'atto importante che non ti arriva a casa perché il postino non ti trova. La piazzetta non ha un nome però ci abitiamo, sono 200 famiglie. A un certo punto ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto chi ci sta ci sta, evitiamo qualsiasi altra perché segnalazioni ne sono state fatte a bizzeffe, ma non solo per le erbacce, per la spazzatura che si accumula, per la situazione di completo mancanza di decoro. Devo dire che abbiamo fatto un primo intervento un paio di settimane fa cercando di togliere il grosso, si è creato un gruppo di cittadini che sta crescendo, nessuno è obbligato a fare nulla, non c'è un interessamento dell'amministratore di condominio piuttosto che, questi sono cittadini spontanei e oggi abbiamo fatto questo secondo passaggio dove ci siamo occupati autonomamente anche del taglio dell'erba. Salvo lo svuotamento dei bidoni, qui non c'è neanche la raccolta porta a porta d'altra parte in questo quartiere, noi non vediamo uno spazzino passare da almeno sei mesi probabilmente, forse di più. Idem per la cura della piazzetta, l'altra volta un condomino ha anche aggiustato dei mattoni che si erano staccati perché col tempo come tutte le cose si usurano, non c'è nessuna volontà né di polemizzare né di altro. C'è la volontà di recuperare uno spazio ed evitare che diventi preda dell'incuria e quindi anche dei vandali perché poi questa piazzetta essendo molto riparata purtroppo la sera si presta anche ad altre cose. E anche questo è estremamente noto, non lo scopriamo oggi, è semplicemente questo il senso della nostra azione, a noi naturalmente fa piacere che si uniscano più persone possibile, l'ottimo sarebbe che tutti i residenti partecipassero ma noi capiamo benissimo perché se dobbiamo fermarci a pensare, ma noi paghiamo già le tasse, ma noi qua, ma noi là, vuol dire che ci teniamo l'erbaccia che arriva un metro e mezzo. E quanto altro c'è ancora? Ecco, avete sentito, un cittadino che paga le tasse, che abita in questo quartiere e che insieme ad altri è desideroso di poter vivere il luogo dove abita, cioè l'ambiente. Il messaggio a chi lo lanciamo, a chi di dovere, a chi di dovere, che dovrebbe essere presente e operare per dare agi e servizi utili ai cittadini. Buona giornata.